Il suo nome è Vanda Grus, è tua zia. Dovresti conoscerla prima di prendere i voti. È la tua unica parente. Sono tuoni so che sei. Sei una suora ebrea, non te l'hanno detto? E non ti hanno detto chi sono, che cosa faccio? Hai mai avuto pensieri peccaminosi? No. Hai idea dell'effetto che fai sugli uomini? Chi sei tu, veramente? Una donna che ha condannato a morte degli uomini. È un peccato. Non dovresti tagliare i tuoi capelli. Chi sei tu, perché? Grazie a tutti